La temuta chiusura dei tunnel per i prossimi mesi è scongiurata, grazie all'intervento della Regione Piemonte che sotto forma di anticipazione è intervenuta a nostro favore. Ma i problemi da risolvere rimangono molti. La situazione delle strade provinciali, anche a fronte dei recenti temporali, è ormai insostenibile. In realtà le strade a carico della provincia sono in totale 750 chilometri, per i quali da tempo non è garantita nessuna manutenzione. Ma la situazione più preoccupante ed evidente riguarda la superstrada che collega Biella a Costato. La vegetazione ormai ha scavalcato il guardrail ed è altissimo il rischio caduta piante. Solo nell'ultima settimana, complici le abbondanti precipitazioni, si sono verificati tre incidenti all'altezza degli svincoli di Chiavazza, Costato e Gattinara, dove le vetture si sono praticamente ribaltate. In caso di pioggia, non potendo sgorgare l'acqua accumulata ai lati della strada, il percorso si allaga completamente. Percorrendo il tragitto a una velocità sostenuta, visto il tratto predisposto, è aumentato in modo esponenziale la probabilità di perdita del controllo della vettura. Abbiamo sentito questa mattina il geometra Gian Clemente Moscatova, responsabile dell'attuazione dei lavori pubblici per la provincia, che ha esposto gli interventi programmati. All'inizio dell'estate asserisce di aver inviato le richieste di collaborazione ai comuni per i lavori di manutenzione stradale, a cui per ora solo dieci hanno aderito. E sono Bioglio, Ronco, Quaregna, Salussola, Caprile, Valdengo, Massazza, Zumaglia, Masserano e Strona. I due comuni più grandi non hanno ancora risposto. Sottolinea però il dirigente ai lavori pubblici, Maria Luisa Conti, che gli interventi non coinvolgeranno la superstrada, per la quale, a questo punto, vista la vegetazione ormai imponente, sarebbero necessarie ditte con attrezzature particolari. E' quindi lecito pensare che le piante e le sterpaglie che hanno invaso le carreggiate e coprono i cartelli segnaletici sono destinate ad aumentare ancora nei prossimi mesi, mettendo in serio pericolo gli automobilisti.